Cose da acquistare su Amazon parte a 253. Queste sono delle mensole magnetiche, sono perfette per recuperare un po' di spazio in cucina. Sul retro hanno un magnete e si possono attaccare direttamente sul frigorifero. Quello che ho scelto io è un set composto da due pezzi, le trovo comodissime sia per mettere dei barattolini tipo dei semini o come porta spezie. In più vi arrivano anche questi gancetti che potete attaccare sul bordo della mensola per metterci i guanti da forno o le presine. E se un giorno voleste toglierle non c'è nessun problema perché le tirate via e resta tutto pulito senza che ci siano chiodi o colle. Tre oggetti salva spazio per la tua cucina. Questa frossa per cucinare si ripone facilmente in un cassetto, si apre ruotando la base in questo modo e in più si può sfruttare sia da aperta che da chiusa. Questo oggetto piccolissimo è in realtà una bilancia, sulla parte davanti ha un display e ci si poggiano sopra sia i piatti più piccoli che le insalatiere più grandi. Se dovete acquistare un sottopentola date un'occhiata a questo, ha il rivestimento in silicone ovviamente resistente al calore, si apre e diventa lunghissimo e sopra ci si poggiano fino a due o tre padelle o pentole e anche le teglie più grandi. Anche tutti insieme occupano pochissimo spazio, spero vi siano utili.